Importante novità per la servicoltura in Toscana, con una proposta di legge al Parlamento, il Consiglio regionale chiarisce il regime degli interventi, in particolare su boschi e foreste, e interviene sul Codice dei beni culturali e del paesaggio, per superare le difficoltà burocratiche legate all'obbligo dell'autorizzazione paesaggistica, anche solo per il taglio di un piccolo appezzamento. La proposta di legge, coerente con due mozioni votate a larga maggioranza dal Consiglio lo scorso dicembre, è stata approvata a maggioranza, con 32 voti favorevoli e due contrari del Movimento 5 Stelle. Noi abbiamo semplicemente chiesto, con la proposta di legge che è stata approvata, al Parlamento di intervenire, non per fare cose particolarmente rivoluzionari o per trovare soluzioni che vadano a penalizzare il bosco, ma semplicemente per tornare al regime che era vigente prima del luglio dello scorso anno. Una maggiore semplificazione, minori costi per le tante, spesso piccole aziende del settore che sono agricole o che sono artigiane per consentire di poter rispettare quella che è la tradizione del bosco toscano, che è un bosco essenzialmente coltivato, che ha ovviamente le sue parti maggiormente preciate, che sono oggetto di vincoli particolari come quella dei parchi che devono essere soggette alla paesaggistica, ma c'è tutta una parte, migliaia di ettari di bosco che non sono soggetti ad un vincolo specifico, che sino a luglio dello scorso anno non richiedevano l'autorizzazione paesaggistica, che oggi invece vi sono sottoposte con aggravio di burocrazia e di costi. Siccome sino ad ora non è successo che la Toscana sia una regione che ha visto un disboscamento, la regione toscana è una delle più boscate d'Italia, ha visto 380 mila ettari di bosco aumentare in maniera spontanea dalla guerra d'oggi, quindi nel rispetto di quello che facevano i monaci camaldolesi o della Verna, di quello che facevano i contadini nella storia e nei secoli, che hanno portato ad avere il nostro terreno agricolo così importante, bello anche dal punto di vista paesaggistico, con coltivazioni varie, ma anche con la coltivazione culturale del bosco, noi pensiamo che su quella strada possiamo rispettare il bosco stesso, ma possiamo anche rispettare il lavoro duro, faticoso di chi vive in montagna e magari di chi dal bosco trarre anche una piccola economia. Ricordo che il 9 di dicembre l'Aula del Consiglio regionale approvò due mozioni, una del gruppo della Lega, un'altra del gruppo del Partito Democratico, sostanzialmente con contenuto a fine, cosa si voleva? Si voleva che si riducessi i tempi e i contenuti della burocrazia che grava anche sulle aziende boschive. Occorre tenere presente che nelle aree di notevole interesse paesaggistico, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, occorre anche l'autorizzazione della sovrintendenza dei beni culturali. Guardate, quello che veramente nuoce alla economia toscana è l'eccesso di burocrazia. Noi oggi chiediamo al Parlamento di agire, di agire per far sì che queste aziende non siano più penalizzate, non debbano sottostare a questa autorizzazione. Ci sono già le dovute autorizzazioni. Questo è un segnale che chiediamo al Parlamento. Mi permetto solo di dire però, perché ritengo giusto prendermi le responsabilità come partito, ma direi come Governo, come tutti, occorre muoversi. Perché noi questo segnale al Parlamento lo avevamo già dato il 9 di dicembre. Ora occorre muoversi e far sì che veramente vi siano delle novità, perché per il momento ci sono degli auspici e i toscani chiedono fatti. Le imprese che operano nel settore boschivo, i boscaioli, li chiamiamo per nome, hanno bisogno di meno regole, hanno bisogno di meno burocrazia, hanno bisogno di meno fatica per poter fare il proprio lavoro. Pensiamo che l'autorizzazione paesaggistica per tagliare il bosco sia un eccesso di zelo di cui la nostra montagna non ha bisogno, perché è vero il contrario di quello che solitamente pensiamo, ovvero il bosco sta mangiando la montagna, mangia interi pascoli, mirtillaie, intere zone che prima erano appunto, davano frutti di bosco, fragole, lamponi, more, mirtilli eccetera eccetera, che sono mangiati dal bosco anno dopo anno perché anche il bosco sta arrivando sul crinale e questo perché? Perché non ci sono più i pascoli, non ci sono più i pastori, non ci sono più le pecore, non ci sono più le mucche a pascolare, evidentemente il bosco si impossessa di aree che prima erano appunto aree a pascolo. Questo è vero, tanto è vero che sta aumentando la superficie boschiva in Italia e in Toscana. Che cosa succede? Danni e pericoli da un punto di vista idrogeologico, danni e pericoli da un punto di vista di incendio. Ci sono in questo momento decine di migliaia, per non dire di più, di piante in terra che sono cadute quest'anno sotto la neve e nessuno pensa a raccattarle. Creano un rischio idrogeologico, creano un rischio incendio. Ecco, in tutto questo gli ultimi custodi della montagna, gli ultimi baluardi che cercano di costudire il bosco e la montagna sono i boscaioli. Alleggerire il carico di burocrazia che grava sulle spalle di queste società, di queste imprese, di questi uomini che fanno a volte anche di queste donne, perché ci sono anche delle donne che fanno questo lavoro durissimo, penso che sia una battaglia di giustizia. Quindi Fratelli d'Italia ha convintamente votato a favore di questa richiesta che il Consiglio regionale fa al Parlamento italiano. Sono state proposte in Commissione due leggi, una regionale e una nazionale che sarà incardinata al Parlamento. La prima è naufragata semplicemente per illegittimità costituzionale, sarebbe stata impugnata e anche per il fatto che il Governo con l'ultimo decreto semplificazioni ha detto chiaramente che non si poteva andare nella deregulation come il Partito Democratico, ma anche il resto dell'opposizione ha voluto, ma serviva una semplificazione procedurale, questo sì, ma certamente non annullare le autorizzazioni che dovrebbero tutelare tutti i paesaggi di maggior pregio della nostra regione, dei quali ci vantiamo spesso quando andiamo a fare promozione turistica, ma che ci dimentichiamo di tutelare o addirittura cerchiamo di superare in qualche modo. Sono state date le giustificazioni più svariate che riguardavano l'agricoltura, l'interesse. Io ho visto soltanto prevalere un aspetto economicistico, soprattutto declinato in maniera molto disorganizzata e soprattutto che non va certamente a tutelare né la filiera del legno e negli agricoltori, come loro vanno dicendo, parlo della maggioranza, ma che semplicemente andava in un'ottica di togliere delle regole, di non tutelare e che adesso vorrebbero estendere a tutto il territorio nazionale. Scriveremo una lettera per questo al Governo e lo segneremo a tutti i nostri parlamentari che considerano i boschi e le foreste, che sono tutelati dal Mibact per il paesaggio e per il loro valore ambientale e diremo loro che il Partito Democratico ma il resto della maggioranza vogliono togliere le ultime regole che ci permettono di tutelare questi che sono beni comuni, prima ancora che beni economici. Presidente e Giunta regionale dovranno presentare quanto prima il Piano regionale per la tutela dell'amianto con i necessari finanziamenti e prevederlo come priorità all'interno del Piano regionale di sviluppo, come prevede una mozione che ha visto come prima firmataria Elisa Montemagni della Lega. L'obiettivo è disincentivare lo smaltimento di materiale contenente amianto nelle discariche e incentivare la nascita di impianti industriali capaci di inertizzare i rifiuti contenenti amianto, dando un concreto impulso all'attività di bonifica e alla nascita di un'economia circolare di sottoprodotti riutilizzabili in edilizia e cantieristica. Abbiamo portato questa mozione perché sono anni che si ampliano le discariche per lo smaltimento dell'amianto e riteniamo che senza un piano dell'amianto che ormai attendiamo da otto anni e di cui anche in questa mozione abbiamo chiesto una veloce stesura e quindi un arrivo in aula il prima possibile, sia necessario mettere anche dei paletti e cercare di portare anche delle proposte alternative. Ad oggi l'amianto finisce tutto in discarica in Toscana ma ci sono comunque dei progetti che in altre regioni sono stati portati avanti per cercare di riutilizzarlo. Questo anche nell'ottica dell'economia circolare perché tutto il rifiuto deve poter trasformarsi in qualcos'altro. Quindi noi abbiamo chiesto che si velocizzasse l'arrivo del piano dell'amianto in aula che riteniamo fondamentale e che si valuti la possibilità di andare a recuperarlo invece che ampliare le discariche. Mi riferisco in questo caso a Cava Fornace e la Grillaia che sono le ultime che ad oggi hanno subito questi ampliamenti. Ovviamente abbiamo anche chiesto in audizione, in commissione tramite documento firmato che vengano a riferirci sia ARPAT che ARRR proprio per cercare di capire se ci sono già delle valutazioni, se già ci sono delle sperimentazioni, dei progetti fatti anche in altre regioni che possiamo prendere ad esempio. Il Consiglio regionale ha approvato un atto di indirizzo presentato da Vittorio Fantozzi di Fratelli d'Italia sulla realizzazione di parchi giochi inclusivi in cui bambini con abilità e capacità diverse possano giocare insieme e interagire tra loro utilizzando i giochi installati nel parco. La mozione impegna la Giunta regionale a prendere atto della necessità immediata di accrescere l'attenzione su questi temi e ad individuare, di concerto con gli enti e le strutture competenti, le potenziali aree oggetto di intervento per l'adeguamento e riqualificazione dei parchi giochi esistenti e o la realizzazione di nuovi parchi inclusivi accessibili. Oggi Fratelli d'Italia riesce a ottenere all'unanimità l'approvazione di una mozione che impegna la regione toscana a incentivare sotto il profilo degli investimenti non soltanto la realizzazione ma anche la riqualificazione dei parchi giochi affinché siano parchi giochi inclusivi. È una vittoria di tutti coloro che vedono nell'integrazione fra bambini con possibilità diverse e una priorità e rispecchia chiaramente l'impegno verso il mondo della disabilità e dell'integrazione che è una delle bandiere portanti di Fratelli d'Italia. Nel comune senese di San Casciano dei Bagni torna la terrazza, 15 appuntamenti dal 3 luglio all'11 settembre tutti ad ingresso libero e su prenotazione, organizzati anche grazie al sostegno del comune e al contributo del Consiglio regionale della Toscana. All'apertura della manifestazione l'incontro con Maurizio Marinella, imprenditore e punto di riferimento dell'alta artigianalità italiana, tra gli ospiti della Rassegna l'ex presidente della Commissione europea Romano Prodi, l'attrice Isabella Ferrari, l'attore e regista Marco D'Amore Max Sirena, lo skipper protagonista nell'ultima Coppa America con Luna Rossa. La terrazza nasce 5 anni fa per volontà del comune di San Casciano dei Bagni e di un gruppo di amici che insieme abbiamo pensato di creare questa rassegna culturale, ma diciamo dal sapore pop perché ci piace definirla così, a San Casciano dei Bagni che è l'ultimo comune della Toscana, proprio al confine con il Lazio e l'Umbria, siamo proprio al confine. Idealmente quindi l'idea è quella di creare una rassegna che possa spaziare da temi molto diversi a pubblici diversi, quindi che possa parlare a pubblici diversi. Quest'anno infatti avremo tematiche, affronteremo tematiche molto diverse ma contemporanee come le frodi telematiche, il problema dei big data e diciamo anche dei bitcoin, di tutta la situazione che si sta verificando a livello globale. Affronteremo il tema della post pandemia con il professor Romano Prodi che verrà intervistato da Dario Di Vico, parleremo di cinema con Isabella Ferrari e con Marco D'Amore, due attori diciamo iconici sul panorama nazionale e avremo molti altri incontri, anche presentazioni di libri e poi avremo anche una superstar di questo anno sportivo che è Max Irena, lo skipper di Luna Rossa che ha portato grande successo dell'Italia alla finale dell'America's Cup, quindi ci racconterà un po' il dietro le quinte di questo grande evento. Cercheremo di animare questo comune piccolo perché siamo solo 1600 abitanti con un'offerta culturale di grande qualità, con grandi personaggi affrontando temi diversi. Quello che vogliamo fare è dare visibilità a quello che è un comune piccolo e quindi anche se ha tantissime ricchezze vive un po' di tutte le difficoltà che i piccoli comuni vivono e vogliamo farlo con dei contenuti importanti come quelli culturali, vogliamo un po' raccontare l'Italia dalla nostra piazza. È un territorio bellissimo che sa unire la bellezza paesaggistica anche ad un cartellone culturale di altissimo livello. Consentitemi di ringraziare la sindaca di San Casciano dei Bagni, Agnese Carletti per l'opportunità che ci ha dato. Noi abbiamo l'idea di una Toscana diffusa che abbia la capacità di saper valorizzare le eccellenze che ci sono sui nostri territori. L'appuntamento della terrazza è esattamente questo, riuscire a dare un messaggio di speranza a un'Italia che vuole ripartire, a una Toscana che vuole ripartire, fatta di tanti incontri molto differenti tra loro ma tutti con un profilo di altissimo livello. È un modo per mandare un messaggio di speranza dopo il tempo difficile che abbiamo vissuto. Da una piazza, una piccola piazza, c'è la capacità di saper dare una visione molto generale di quello che accade in Toscana e nel mondo. Per questo ho accolto subito con piacere l'invito ed è bello vedere le porte del Palazzo del Pegaso che si aprono, si aprono a tante iniziative culturali, a tanti momenti di ripartenza. Il segno davvero che stiamo uscendo dalla fase più difficile della pandemia.